Allora, buonasera, io non sono piemontese, sono veneta, mi chiamo Silvia Benedetti e sono della Commissione Agricoltura. Allora, come diceva appunto già il mio collega Mirko, diciamo che la filosofia con cui questi territori vengono sfruttati è diametralmente opposta a quella che potrebbe essere una sorta di sviluppo più lungimirante e più sostenibile che è quello che poi vorrebbe vedere realizzato il Movimento 5 Stelle o comunque credo indipendentemente dal Movimento 5 Stelle anche un cittadino che abbia a cuore il proprio territorio e la propria salute. Quindi per quanto riguarda ad esempio la Commissione Agricoltura e la Commissione Ambiente, anzi direi comunque è stato un lavoro più della Commissione Ambiente, abbiamo parlato di consumo di suolo e abbiamo pensato a una proposta di legge in questo senso. E quello che ho visto oggi è proprio quello che vogliamo evitare, cioè il fatto di passare da un territorio dove magari prima c'era coltivazione a crutteto a un territorio dove ci sono dei buchi, dei crateri per l'estrazione appunto di ghiaia oppure dei buchi e dei crateri che vengono riempiti a rifiuti, decisamente non è un modo intelligente di sfruttare quelle che sono le nostre risorse. Allora se riflettiamo un attimo per quel che riguarda l'agroalimentare è un argomento che stiamo anche discutendo molto in Commissione, perché? Perché è un settore che vogliamo difendere, è un settore che nonostante la crisi italiana in generale è un settore che ancora ha dei risultati positivi, ha dei risultati positivi nell'export ma anche semplicemente nella produzione nostra. Quindi ovviamente la nostra idea è quella di cominciamo a dare una mano e incentivare quella che è appunto l'agricoltura, la produzione primaria, la produzione di qualità, le trasformazioni tipiche, cominciamo a produrle in quel senso, cominciamo a produrle con un certo tipo di lungimiranza, ovvero incentiviamo una ricerca che ti consenta di coltivare magari usando meno chimica, con una gestione più intelligente anche dei tempi di coltivazione e anche una gestione più intelligente delle colture da scegliere. Qui ho visto anche tra l'altro molti campi, ad esempio a mais, chiaramente noi dovremmo essere un po' più precisi nella scelta di quello che vogliamo coltivare, non si può fare tutto a mais o tutto a soia o tutto ad altre colture che non danno riscontro di quello che è la nostra tipicità. Oltretutto in questo discorso si inserisce anche l'OGM, allora io avrei piacere di aggiornarvi un attimo sulla situazione degli OGM, nel senso che la situazione è l'anartia più totale per quale motivo? Perché c'è una sovrapposizione delle normative, la normativa europea, che non lascia agli Stati membri la possibilità di decidere che cosa vuole fare sul proprio territorio, uno Stato. Poi d'altra parte c'è la normativa italiana che è intervenuta con un decreto tardivo peraltro perché le coltivazioni di mais, non so chi di voi è informato sulla vicenda, ma ci sono state delle coltivazioni di mais Mono 810, quindi un mais della Monsanto a Vivaro e poi in altri posti, sempre nel Priuli Venezia Giulia, stiamo parlando, e appunto è stato fatto questo decreto tardivo ad agosto, quindi il mais era già bello che fiorito, quindi il polline era già bello che andato, e questo decreto non ha di fatto bloccato poi quella che è stata la contaminazione verificata successivamente. In questo si è inserito pure il Priuli Venezia Giulia, cioè l'amministrazione regionale targata PD peraltro, quindi da una parte il PD a livello parlamentare che dice di essere contro gli OGM, infatti ha firmato con noi una mozione contro gli OGM, dall'altra parte il PD a livello regionale che dice che non c'è nulla di strano se ci sono queste piantagioni, quindi per la regione Priuli il problema non sussisteva. Una sovrapposizione di poteri ha portato all'impasse più totale, per cui l'unica cosa di fatto è stata verificare la contaminazione successiva, quantificata attorno al 10%. Allora, quello che ci domandiamo noi è l'intelligenza di questa manovra, perché? Perché hai uno stato che ti produce agricoltura di qualità e oltretutto può puntare molto sul biologico, nel momento in cui c'è una contaminazione sul biologico non puoi più puntare, perché? Perché un biologico viene certificato tale se l'assenza, cioè la presenza di OGM arriva fino al massimo dello 0,9%, perché come la penso io dovrebbe essere un massimo dello 0%, chiaramente. Se pensiamo magari a un biologico fatto lì attorno, non avrebbe più una garanzia, c'è questo rischio qui. È chiaro che poi bisogna pensarla anche a lungo termine, nel senso che per ora gli OGM che sono coltivabili sono tutti OGM che riguardano ad esempio, appunto, mais, soia, colza, che sono tutte produzioni però per o mangi mistica animale, oppure per produzione di energia da biomasse. Quindi anche il fattore di dipingere le OGM come i salvatori della fame nel mondo è un fattore errato, perché noi non ci mangiamo la colza, non ci mangiamo quel mais e non ci mangiamo quella soia. Questo è un esempio, secondo me, abbastanza palese della direzione che è stata presa fino adesso, ovvero io sfrutto, sfrutto, sfrutto quello che ho per un ritorno immediato e non riesco più poi a tutelarmi un territorio che potrebbe essere sfruttato molto più a lungo termine con una gestione più mirata, più attenta alla qualità. Questa è la considerazione di oggi, quindi oggi quando mi hanno detto di questi frutteti, sinceramente a vedere il paesaggio stentavo a credere che prima ci fossero dei frutteti, stentavo a crederci ed è un peccato. Quindi la cosa migliore che ora possiamo fare è chiaramente intanto fermarci fino a dove siamo, che è anche quello che poi vorremmo tenere con la nostra proposta di legge sul consumo di suolo, cioè il consumo di suolo è già oltre quello che possiamo permetterci, è già andato oltre, non basta dire ma costruiamo di meno, no, no, non costruiamo più, verifichiamo quello che c'è. A Conegliano che è un paese in provincia di Treviso hanno trovato, se non sbaglio, 3.000 case spitte, anzi nel primo censimento fatto, perché poi molti comuni non hanno neanche una misura delle case che sono spitte, delle abitazioni che non vengono utilizzate, dei capannoni industriali disabitati come quelli che abbiamo visto anche oggi. Quindi a Conegliano hanno fatto un conto 3.000 case che stanno lì senza far niente, a Roma c'è stato un conteggio, 150.000 edifici spitti recente, quindi non è che siamo senza la possibilità di fare una valutazione diversa. Ecco, la riflessione di questo giorno per quel che mi riguarda è questa e adesso non so chi rende un problema di dire.